No, ma sono ok Posso dire una cosa che non mi è piaciuta che peraltro è pure inerente il VOD l'ho scaricato per curiosità che ero tentato a faccio un video mi sono scaricato una live che non è più disponibile credo del rimorchiatore di Riccione innanzitutto i suoi amici vergognosi tipo approccia quella cagnetta ti ha appena scritto un chat ciao no senti Patrizio è molto meglio che senti, non mi è piaciuta la live no ti giuro un cane da tartufo che si leccava la lingua a urla pestrata ragazze, ragazze, scusate, scusate a rincorrerle mentre se ne vanno maggiorenni, maggiorenni, maggiorenni veramente una cosa pietosa io pensavo che c'era un po' più di classe invece ho visto la disperazione dell'approccio tipo devo approcciare qualcuno sai perché? Perché lui ha iniziato a fare live ancora mi sa, non ha rimorchiato nessuna quindi io non so il primo sta tutto un fervorato devo far vedere che ci riesco pure in live non ci sta riuscendo ha scritto migliorerò non ci sta riuscendo migliorerò ma non ci sta riuscendo ma non posso sentire approccia a quelle cagne veramente ti giuro mi sono messo le mani di capello ho fatto no ma cosa fa? ma cosa è? che succede? Gianluca per il sociale ragazzi cambiamente perché ho detto vediamo se cade nel catcalling secondo me urla per strada ragazze, ragazze, maggiorenni secondo me è sgradevolissimo ha rimorchiato ha rimorchiato albanesi e filippine top vabbè top ha scritto migliorerò comunque già lui ma chi è che ha scritto sta cosa? che vuol dire? l'avranno visto vabbè vabbè rimorchi un'italiana porco dio flame tra di loro dicono il cazzo che voglio vabbè se sta in live non è proprio uguale però ok tra di loro cosa? sta in live tra di noi diciamo quello che cazzo ci pare tra di noi sì in effetti no non è tra di noi ragazzi sono un femminista io sono un femminista sto lottando per la piena parità stanno dando spettacolo di un atteggiamento predatorio io comunque non ho visto quindi non so c'è poco da rimorchiare purtroppo lo so è un periodaccio d'inverno sono d'accordo c'è cazzo